Musica Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo giunti in una collaborazione con Akuro Game 97 Lascio il nome in descrizione E vi lascio anche qui lo screenshot del suo canale Passate dal suo canale perché fa dei video bellissimi E ha 45 iscritti quindi iscrivetevi al suo canale E oggi questa collaborazione parla su Dragon Ball Lui ha già mandato sul suo canale 10 cose che forse non sapete su Dragon Ball E io ci porterò anche io 10 cose che forse non sapete Forse, non voglio avere problemi nei commenti Che forse non sapete su Dragon Ball Ed è probabile che anche fra un po' porterò anche delle cose che forse non sapete su Dragon Ball Super Quindi ragazzi in totale faranno 20 Tra quelle che ha fatto lui e tra quelle che ho fatto io E niente ragazzi io direi di partire con la Prima cosa che forse non sapete su Dragon Ball È che in tutta la serie di Dragon Ball Sono stati esauditi in tutto 22 desideri Non sono tanti però ragazzi Comunque è una bella cifra I personaggi totali di Dragon Ball nella serie completa Sono più di 150 Quindi Akira Toriyama veramente ha avuto una grandissima inventiva Poi anche con altra gente che comunque l'ha aiutato Però i 150 personaggi sono tantissimi Piccolo o Junior nel manga ha 4 dita E invece nell'anime ce ne ha 5 Io questa cosa non l'ho ben capita Sta decisione che hanno preso Che nel manga ce ne ha 4 E nell'anime ce ne ha 5 Non l'ho capita Però va bene così La scimmia Bubbles È stata data il nome Bubbles Che è la scimmia di Recaio In onore della scimmia domestica di Michael Jackson Quindi a quanto pare Akira Toriyama gli piaceva il nome della scimmia domestica E passiamo con un'altra Gohan e Pan tradotto in italiano significano pane e riso Nappa in passato aveva i capelli Quindi ragazzi questa qui è probabile che la sappiate Come cosa che forse non sapete su Dragon Ball È probabile che sicuramente la sappiate Però volevo dirvela questa cosa Perché comunque nel film Nelle origini dei Saiyan Una cosa del genere Il titolo fa vedere che ha i capelli Quindi in passato non è stato sempre con un pelato calvo Quindi ragazzi anche questa qui è stata bella Io lo sapevo naturalmente Perché ho visto il film E niente ragazzi passiamo con un'altra Alla fine di Dragon Ball Z Il genio delle tartalughe Ha ben 354 anni Bevendo l'Elysir Quell'acqua che ti allunga la vita Trunks tradotto in giapponese E cioè tradotto in italiano Significa calzone o calzetto da bagno Che sfiga I giochi ispirati a Dragon Ball Sono 65 Per un anime Per un cartone animato 65 giochi Sono veramente tanti Sapevo che ne avevano fatti Veramente tantissimi i giochi Però Tipo una trentina Però Non una 65 Porca vacca Sono tantissimi ragazzi Spettacolare L'ultima cosa Che è probabile Che forse non sappiate È che Il sole è stato Veramente letale Per tre personaggi Cioè Broly Kohler E Baby Ragazzi Sono loro Sono stati scagliati Contro il sole E sono praticamente Morti Baby è morto Il primo colpo Poi Kohler Si è rigenerato Diventando lì Cooler Rigenerato Lì tutto Metallizzato E Broly Comunque ritorna in vita Tre miliardi di volte Quindi Non è morto neanche quella volta Che è stato scagliato contro il sole A quanto pare Anzi è morto Che dopo Hanno fatto il film Che Cioè Goten e Trunks Che vanno conto di lui Che è tutto diventato Quello zombie Tutto Marrone E con gli occhi rossi Una cosa del genere Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Al canale E Andate Passate anche Dal canale Di Acuro Games 97 Ragazzi Quindi Ringrazio per aver fatto Per aver fatto La collaborazione Con lui E Mi è piaciuta Veramente tanto Questa decisione E se arriviamo A 40 like Vi porterò Anche 10 cose Che forse Non sapete Su Dragon Ball Super Che finalmente Almeno qualcosa Di nuovo Porto Visto che Comunque Queste cose Forse Queste 10 cose Le potevate Forse anche sapere Invece su Dragon Ball Super Che c'è da poco Praticamente Sto anime Nuovo È probabile Che tante cose Non le sappiate Quindi Porterò Se arriviamo 40 like Un'altra Top 10 cose Che non sapete Niente ragazzi Noi ci vediamo Alla prossimissima Con un nuovo video Seguitemi su Instagram E Bella ragazzi Ciao